Stretta di mano oggi all'Università di Padova tra Matteo Renzi e il sindaco Massimo Bitonci, uno degli amministratori della Lega più critici verso il Premier ed il suo governo. Fino a ieri sembrava che la presenza di Bitonci potesse essere addirittura in forse all'appuntamento. Positiva comunque dal punto di vista, come ha sottolineato lui, istituzionale la presenza del Premier. Nel suo intervento il Premier Renzi ha anche ricordato che nella manovra di bilancio sono stati inseriti 280 milioni di euro per sostenere i dipartimenti universitari. Soddisfazione è stata espressa dal rettore Rizzuto. Ha detto quello che volevamo sentire, cioè che le università sono strumento di questo paese, sono strumento di crescita, sono strumento di acculturazione del paese e sentirlo implica una strategia di investimento, di responsabilizzazione. Noi abbiamo fatto una richiesta, autonomia e responsabilità, autonomia di scelta e responsabilità per quello che facciamo. Quando ci viene concessa facciamo bene, questo è quello che abbiamo voluto mostrare oggi. I 270 milioni di euro per i dipartimenti, selezionando quelli che fanno i progetti giusti, che vogliono correre, dice che è tantissimo. Non è tantissimo, ma è abbastanza. È l'indicazione che questa è la direzione in cui deve andare un paese che vuole crescere e vuole crescere attraverso il sapere. E poi il Premier ha lanciato una provocazione, ha detto rientrare nei primi dieci posti. Ma sai, questa è la sfida che tutti noi ci poniamo. Sarebbe molto facile dire che l'Università di Sydney, che ho citato, ha dieci volte il finanziamento che abbiamo noi. Ma nel momento in cui noi ci fermiamo a questo, noi ci siamo dati un alibi per non competere. Allora, noi dobbiamo puntare ad arrivare al decimo posto, come dice lei, metterci tutta la forza possibile perché questa è l'unica maniera per crescere.